Tempo di bilanci per il Partito Democratico della provincia di Ragusa dopo le primarie di domenica scorsa. In provincia hanno votato quasi 7.700 persone, un risultato ritenuto positivo dai vertici provinciali blei. Durante la conferenza stampa di ieri è stato tracciato il bilancio ed è stata fatta anche un'analisi del voto che ha visto trionfare nettamente Matteo Renzi, anche in terra eblea, con circa il 74% di preferenze. Risultato che ha consentito di eleggere tre delegati su quattro per l'Assemblea Nazionale, mentre il quarto è andato al gruppo di Cuperlo. Nessuno invece per l'area Civati. Proprio a proposito dei delegati ci sono alcune novità. Alla fine infatti non è stato possibile sostituire all'interno della lista il nome della senatrice Venirina Padua con quella della moglie di Peppe Calabrese, Riana Cavalieri. Dunque al momento risultano eletti nella lista di Renzi Gigi Bellassai, Venirina Padua e Giulio Branchetti, mentre nella lista di Cuperlo l'ex senatore Gianni Battaglia. Ma la Padua potrebbe lasciare il posto ad Elisa Montemagno, considerato che lei già fa parte di diritto dell'Assemblea Nazionale del Partito, essendo una parlamentare. E intanto è spuntato un caso sul voto negato al presidente del Consiglio Comunale di Ragusa Gianni Iacono. È vero che l'ex esponente di Italia dei Valori non è un elettore del PD, ma nel resto d'Italia le urne sono state aperte anche a chi si è dichiarato del centro-sinistra, non essendo per forza un elettore del PD. Un caso su tutti, il sindaco di Palermo, Leluca Orlando. Eletto il nuovo baby sindaco di Comiso. Si tratta di Sofia Salemi, che è stata eletta con 9 voti nel ballottaggio con Damiano Terranova, che invece si è fermato a 8 voti, diventando quindi il vice sindaco. Nel corso della stessa seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stati eletti anche il presidente e il vice presidente del baby consiglio. Anche in questo caso si è fatto ricorso al ballottaggio, Eliseo Ciri, che è stato il più votato con 6 voti. Alla seduta presente è anche il primo cittadino, Filippo Spataro. Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi è un momento importante perché vede l'insediamento dei giovanissimi nell'amministrazione comunale e nella realtà amministrativa. Ha dichiarato il sindaco, in questa maniera i ragazzi avranno l'opportunità di dare nuovi stimoli all'amministrazione comunale e di realizzare quello che i più piccoli propongono, diventando protagonisti della vita cittadina. Il baby consiglio parteciperà a diverse iniziative. Il primo evento sarà il 18 dicembre, quando sarà presentato un libro scritto dai ragazzi del secondo circolo sulla storia di Comiso. Una centenaria vittoria, circondata dall'affetto di amici e parenti, oggi ha raggiunto il secolo di vita una simpatica nonnina. Si tratta di Giovanna Iapichino, ospite della casa per anziani, Beautiful Days di Via La Marmora. Questa mattina, in occasione del lieto evento, è stata organizzata una festa di compleanno, presenti tutti gli altri inquilini e amici della signora, con cui ha condiviso gli ultimi anni della sua vita, presenti anche i nipoti e i pronipoti, ma il momento più commovente della mattinata è stato quello con il figlio. Ci ha raccontato che la mamma da giovane era una madre un po' rigida, severa e a volte molto apprensiva, ma nonostante tutto oggi è stata una vera e propria emozione vederla raggiungere questo insolito e quasi singolare traguardo di vita. La grande famiglia al completo ha festeggiato con lo spegnimento delle cento candeline sulla torta e il brindisi finale. Una donna dolce e commossa per tutto l'affetto che le hanno riservato oggi tutte le persone che le stanno accanto da una vita e che la vogliono bene. Abbiamo cercato di farle ricordare qualche momento importante della sua vita, ma presa dall'emozione ha saputo dirci poche cose. Quanti figli ha? Quanti figli ha? Uno. Uno. Nipote? Tutte. Nipote? Stello. No. Qua tutti sono. E due pro nipote? Te? Una nipote e due pro nipote. No, qua c'è soffitto. Abbiamo chiesto anche al figlio e alla nuora di raccontarci qualcosa di nonna Giovanna. Era un po' rigida mia madre, non mi faceva uscire, non mi faceva andare per la strada, io dovevo stare dietro la vetrina di casa e guardare quelle che giocavano. Però la voglio bene sempre e gliene sono grato di questo. Un errore tecnico o una svista oppure una modifica della cartografia voluta? I consiglieri comunali di opposizione di Vittoria hanno convocato una conferenza stampa per ribadire tutte le proprie perplessità a proposito della viareante al piano regolatore generale e a quelle linee che non corrispondevano alla realtà tracciata nella cartografia per quanto riguarda la frazione di Scoglitti. Durante l'ultima seduta della commissione assetto territoriale si è avuta la certezza che le tavole del piano regolatore generale in tutta l'area di Scoglitti non erano vere. Le responsabilità, secondo amministratori tecnici, sono da addossare ad una società esterna a cui l'amministrazione si è rivolta per avere il materiale cartaceo su cui hanno lavorato. A questo punto la questione che riguarda la variante del PRG non è solo di carattere politico ma sta assumendo anche i contorni giudiziari. Per questo motivo saranno informati anche gli organi preposti al controllo di eventuali regolarità e di responsabilità ben precise da che ha redatto un documento inesatto, stando a quanto dichiarano i consiglieri. Il problema è che più andiamo avanti e peggio è, come se ci fosse una continua scoperta di strafalcione, di leggerezza. Alcune volte uno pensa anche che è nelle mani di persone che vogliono farci fare cose sbagliate per questa città. Non è vero che si tratta di un errore, ci siamo accorti noi dopo otto anni che i tecnici di questo comune lavorano su queste tavole, che le tavole sono false, non sono veritiere, non sono tavole che rispondono alla realtà di oggi, di come è combinato il territorio di Vittorio Scoglitti e questo è un fatto gravissimo, al di là delle giustificazioni che il sindaco cerca di dire non può essere l'opposizione che si accorge che le tavole sono sbagliate perché il piano regolatore è uno strumento fondamentale per la città e non può costruirsi su passaggi completamente falsati rispetto alla realtà. A noi appare assolutamente paradossale e risibile che tutto l'ufficio del piano, tutti i progettisti, tutto il settore urbanistico non si sia accorto di questo grave errore, errore che è stato a me, errore, falsificazione che è stata ammessa dallo stesso dirigente presente alla Commissione a Sette e Territorio di lunedì scorso che si è riservato di rivedere quello che è secondo lui un errore. Noi riteniamo che si tratti di un falso, si tratti probabilmente di un falso in atto pubblico, mobiliteremo tutte le istanze sane della città e probabilmente manderemo tutti gli atti alla procura per quanto di competenza della magistratura ordinaria. La Tares sotto l'albero di Natale dei ragusani monta la polemica sull'aumento della tassa sui rifiuti a carico dei cittadini del capoluogo. Una scelta voluta dall'amministrazione comunale e sostenuta dalla maggioranza in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle. Dall'opposizione piovono, ho visto il periodo natalizio, meglio dire nevicano, pesanti accuse e critiche su questo bel regalo fatto ai ragusani. Un aumento in bolletta addirittura del 40%. Al di là del grosso problema, afferma il consigliere comunale Gianluca Morando, dovuto al fatto che la Tares dovrà essere corrisposta in concomitanza con l'altro salasso del Limo, stiamo assistendo a situazioni a dir poco ingresciose. La gente non è in grado di pagare in presenza di una crisi che crea difficoltà un po' a tutti. Le bollette inoltre sono sbagliate, indirizzi errati e a conti non considerati. L'ufficio competente è nel caos. Ci sono state in queste ore ben 200 persone in fila per fare correggere i tributi. A ciò si aggiunga che i dipendenti comunali sono sotto stress per l'eccessiva affluenza di utenti. Morando inoltre fa rilevare che la ditta che ha creato il relativo programma ha ricevuto nel 2013 circa 18.000 euro per la creazione di un software, 6.000 euro per la manutenzione del programma stesso, 12.000 euro per la stampa e l'imbustamento delle fatture. In totale quindi circa 36.000 euro. E a proposito del ritardo e della confusione negli uffici, il Comune ha fatto sapere che poiché nella giornata di oggi non risultano ancora recapitate alcuni avvisi di pagamento relativi a saldo Tares per consentire un più facile adempimento da parte dei contribuenti, il termine fissato per giorno 16 dicembre, è stato prorogato al 31 dicembre prossimo senza interessi. Inoltre in considerazione del profondo disagio economico che vivono tanti contribuenti, l'amministrazione comunale ha esteso la possibilità di reiterizzare i pagamenti del saldo Tares anche per importi superiori a 250 euro anziché 500 euro come comunicato in precedenza. Al via i lavori per struccare Diana, la restauratrice Viviana Melli, armata di solventi, tamponi e pinzette, da ieri pomeriggio dopo aver ricevuto il tanto atteso nulla ossa dalla soprintendenza ai beni culturali di Ragusa, ha proceduto con il restauro del viso della Dea che come ricorderete era stata imbrattata circa un mese fa da vandali. Viviana ha confermato che si tratta di pennarelli a spirito e di pennarelli indelebili, oltre agli strati di bianchetto che, irresponsabili, si sono dilettati a passare sul naso, sui capezzoli e su labbra e palpebre prima dell'applicazione di rossetto rosso, ombretto verde smeraldo e eyeliner nero. È stato meno complicato invece rimuovere lo smalto rosso alle unghie dei piedi. Viviana ha proceduto provando diversi tamponi e diversi solventi, alla fine uno si è rivelato quello più efficace e che messo in posa riesce ad eliminare il colore. Anche se la pietra di Comiso ha assorbito il colore fino in profondità. Sembrava un'impresa semplice, ma si sta rivelando invece più ardua del previsto. Una volta ottenuto l'utilizzazione del nulla osso da parte della sovrintendenza, ho iniziato già una parte di pulitura suddiana, dove in realtà sembrava molto più facile, ma col passare del tempo lo strato di colore ha assorbito sulla pietra e quindi ci vogliono una serie di impacchi. Tanti impacchi, ovviamente, in questo modo che Solvente faccia la sua azione. Si tratta sia di pennarelli a spirito indelebili, ma anche di bianchetto. Hanno fatto tante passate di bianchetto sulle labbra e nel contornocchi, come potete osservare, direttamente su Diana. Io penso ancora dei giorni passeranno. La procedura è lenta. Terremoto politico nell'amministrazione comunale di Vittoria. Filippo Cavallo, vice sindaco e assessore ai servizi sociali e all'urbanistica, si è dimesso dalla carica. Una decisione improvvisa che ha colto di sorpresa anche il sindaco Giuseppe Nicosia, che a quanto pare non è stato informato preventivamente. Cavallo ha fatto protocollare le dimissioni e per molti la notizia è stata accolta come un fulmine a ciel sereno, in particolar modo all'interno del Partito Democratico. Nelle ultime settimane si parlava di una possibile verifica di giunta, con un conseguente rimpasto, almeno delle deleghe, tra gli assessori presenti, ma non si paventava la possibilità di nuovi ingressi. Le sue improvvise dimissioni potrebbero avere diverse spiegazioni, forse motivi strettamente personali o forse incomprensione divergente con l'assessore ai lavori pubblici e manutenzione Angelo Dezio, o ancora la vicenda legata alla variante al piano regolatore generale, che ha smascherato errori all'interno delle cartografie, soprattutto per quanto riguarda Scoglitti. Un errore che è stato ammesso dal sindaco in persona e che vede come possibili responsabili sia i tecnici che in questi anni si sono alternati per la redazione del piano, sia gli amministratori che lo hanno seguito da vicino, tra cui anche Cavallo. E intanto si fanno già i primi nomi per riempire la casella lasciata vuota proprio da Cavallo. Si parla di un consigliere comunale, forse Cugnata, Scuderi o Puccia, e non è escluso che i due consiglieri rientrato da poco tempo nel PD, ovvero Carbonaro e Cannizzo, possono avere anche una rappresentanza all'interno della compagine amministrativa. Le prime dimissioni sono arrivate. L'assessore Filippo Cavallo ha lasciato il proprio incarico. Non si sa ancora ufficialmente se per la vicenda legata al piano regolatore, ma quanto accaduto nella commissione assetto territoriale fa riflettere i cittadini vittoriesi. L'opposizione ha ribadito ieri in conferenza stampa che gli errori contenuti nelle cartografie non sono poi di poco conto, anzi sono un aspetto gravissimo sul quale deve intervenire anche la magistratura. Il sindaco Nicosia prova a difendere l'operato di amministratori e tecnici, sostenendo che si tratta di un mer errore materiale al quale si può porre il rimedio. Ma i consiglieri comunali non ci stanno e rincarano la dose. Bisogna rivedere a questo punto tutta la variante al piano regolatore generale, rifare i calcoli e soprattutto capire di chi siano le responsabilità di questi errori. La città non può essere presa in giro su una decisione così importante per il futuro di Vittoria. Sì, abbiamo notato appunto che ci sono delle imperfezioni nella cartografia che ci è stata mostrata. Da cinque anni noi vediamo delle carte false che non sono quelle reali, sono le carte del 97 e il nostro timore è che ci sia anche il calcolo dell'area da costruire fatto sulla base del 97, il che significherebbe un eccesso di cubatura edificabile. Se questo sia un errore o non lo sia ce lo dovrà dire la magistratura alla quale noi intendiamo riferire tutta la documentazione e l'assessore a taglienti locali che verrà interessato adesso appena avremo tutta la documentazione disponibile. Sebastiano Gurrieri si è dimesso. Il commissario straordinario della Camera di Commercio di Ragusa ieri ha rassegnato le dimissioni dalla carica che ricopre dallo scorso aprile. Con due settimane di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato fissato per il 27 dicembre, Gurrieri ha protocollato la lettera di dimissioni. L'ex sindaco di Chiara Montegulfi e deputato regionale era stato nominato per tre mesi lo scorso 27 marzo dal presidente Crocetta per riempire il vuoto lasciato al lente camerale dopo le dimissioni di Sandro Gambuzza. L'incarico gli era stato poi prorogato per altri sei mesi, ovvero fino al 27 di questo mese. Le mie dimissioni, spiega Gurrieri in un documento, giungono perché ritengo opportuno accelerare il ritorno alla gestione ordinaria del lente, onde evitare che si determini un vuoto di potere proprio durante le festività natalizie di fine anno. L'assessorato regionale alle attività produttive è ormai in possesso di tutti gli atti necessari per la normalizzazione istituzionale dell'ente camerale e avrà così un tempo sufficiente per provvedere ai bisogni organizzativi prima delle festività stesse. Insieme all'avessivo a Gurrieri ha prodotto anche un dossier con all'interno una corposa rassegna stampa in cui è documentata l'attività svolta in questi settimessi di attività all'ente camerale. Il commissario comunque si è messo a disposizione dell'ente laddove venisse richiesta in questi giorni la sua presenza per questioni legate all'ordinaria amministrazione.